Taurianova è la capitale del libro 2024, confermata la scelta fatta dalla giuria del Ministero della Cultura, presieduta per Franco Bruni e composto da Incoronata Boccia, Gerardo Casale, Antonella Ferrara e Sara Uelmi, che aveva sottolineato nelle motivazioni le grandi potenzialità del progetto di Taurianova. Il progetto di Taurianova, è detto nelle motivazioni, è stato premiato perché rappresenta per una realtà piccola la strada di una crescita o addirittura una rinascita attraverso la realizzazione di infrastrutture culturali, materiali, immateriale e valoriali, capaci di irradiare i propri effetti virtuosi anche sul territorio circostante. La giuria autonoma e indipendente dal Ministero ha individuato nel progetto presentato dal Comune della Piana di Gioia Tauro, anche in ragione del contesto storico e geografico, l'occasione per generare un esempio di pedagogia di riscatto culturale, civile e sociale. Il 6 febbraio, spiega il Presidente Bruni, quindi tre giorni prima delle indiscrezioni apparse sulla stampa, abbiamo tenuto l'ultima riunione della giuria e abbiamo votato l'unanimità al progetto Tauria Nova. La scelta è stata fatta in particolare sulla base dell'impatto sociale della proposta progettuale relativa a un territorio, che ha una straordinaria necessità di sostegno dal punto di vista culturale. La decisione è stata presa in coerenza con quello che l'UNESCO definisce il valore intrinseco del settore culturale e creativo, in termini di coesione sociale, capacità di generare risorse educative, benessere personale e crescita economica.